Il commissario straordinario dell'azienda di servizio alla persona, ASPE 1 di Teramo Roberto Canzio, ha voluto fare chiarezza sulla gestione delle case di riposo, tra cui la Benedictis di Teramo e quelli di Nereto e Civitella. Questo in particolare in seguito alla cessazione del contratto con la cooperativa che fino a ieri gestiva i servizi, con cui l'ASPE negli anni ha avuto spesso momenti di attrito. Nel frattempo un provvedimento d'urgenza del responsabile unico del procedimento RUP ha affidato la gestione temporanea a un raggruppamento di impresa, questo in attesa della gara che porterà all'individuazione della nuova azienda. Si chiude un capitolo che comunque si sarebbe chiuso a ottobre perché già era stata prevista una gara a ponte e una gara generale per le tre case di riposo, che la polis ci ha chiesto di interrompere prima e noi li abbiamo accontentati tutto qua. Tra le tematiche trattate anche la controversia in atto con il Comune di Teramo. Col Comune sono due di questione, uno sulle opere d'arte e uno su quello che è un dare avere. Noi praticamente abbiamo ricevuto un decreto ingiuntivo con pignoramento che non ha dato a buon fine per il Comune per 200.000 euro che l'ASPE doveva sulla tasso di rifiuti, ma ci siamo messi a leggere quelli che sono i rapporti tra Comune e ASPE e abbiamo scoperto che è il Comune che deve in realtà 790.000 euro all'ASPE 1. Quindi noi a differenza di chi fa decreti o pignoramenti noi chiediamo di fare una compensazione, laddove ovviamente non si raggiungerà neanche la compensazione saremo costretti a seguire gli esempi di chi ci ha insegnato come si fa. Il commissario ha ribadito che l'obiettivo principale dell'ASPE 1 è quello di arrivare a stretto giro al pareggio di bilancio, passaggio fondamentale per poi intervenire sui debiti pregressi. Sì, noi l'obiettivo da sempre è stato quello di arrivare al pareggio di bilancio. Il pareggio di bilancio che noi lo raggiungeremo, ma a questo punto sono molto più feticioso, perché sta per partire la gara dell'efficientamento che ci consenterà di risparmiare un milione sui costi energetici, sta per partire la gara generale, anzi è già partito l'Iter, perché ovviamente lì c'è una centrale di committenza e quindi non possiamo farla noi la gara, ma è partito l'Iter, che ci considera di avere attraverso la gara un risparmio di circa 500 mila euro all'anno sui servizi e nello stesso tempo noi abbiamo avuto rassicurazione dall'assessore Verì in una riunione con la presenza di tutti i dirigenti dei vari dipartimenti e con l'assessore Sant'Angelo che il famoso accreditamento ci verrà autorizzato entro l'anno.